Quanto c'è di giallo nella vostra vita? E quanto c'è di noir nella vostra vita milanese? Scopritelo con noi! A Risolto Giallo! Bentornati a Risolto Giallo dalla vostra Alessia Sorgato e bentornati ai nostri ospiti con cui oggi autogestiamo la puntata. Tu presenti lei, che presenta te, che presenta me. Emuliamo la canzone e facciamo da soli. Allora comincio io. Davanti a me c'è Cristina Icaldi, la mia socia. Buongiorno a tutti. Ciao Alessia, grazie per l'invito. E lui è Ferdinando Pastori. Buongiorno a tutti. E insieme sono gli autori di questi due fantastici libri. di uno abbiamo già parlato l'anno scorso, ricorderete. E questa è la newborn, la nuova ragazza arrivata, che è una ragazza tra l'altro molto carina, vestita molto bene. Vedete com'è le gioadra. Allora, ragazzi. Non è Cristina, è quella in copertina. Sei tu. Sono io. Penso che nessuno potesse confondersi, comunque, messa la foto. Va bene, ragazzi, ve lo dico, sono io. No, lo sanno tutti che io studio Danza Classica, quindi sono io. No, adesso scherzo a parte, a parte che lo studio veramente. Dunque, ci eravamo lasciati con questi personaggi tutti declinati con la lettera O, come la famiglia di Orietta Berti, e ci ritroviamo con questi personaggi declinati alla lettera O, tranne una nipote che evidentemente ce l'ha a morte con la zia e quindi non si vuole far vedere o far sentire. Io così ho inteso, non so se ho capito bene o ho capito male. Perché questo romanzo inizia un paio di settimane dopo la fine del primo e quindi la nipote si è data al lavoro per dimenticare quello che è successo nel primo romanzo, così non facciamo spoiler, e Olga coglie l'occasione al volo quando le si presenta per tornare a rompere le scatole a Franco Reali. Al povero Franco Reali. E quindi che cosa gli porta? Qual è la nuova suggestione? Ancora una questione familiare? Oggi usciamo dalle O. No, no, questa volta usciamo dal giro della famiglia ingombrante di Olga e il caso è un caso di quelli che possono succedere tutti i giorni, un furto di un'amica della sorella, che per assonanza diventa amica anche di Olga, e lei quando vede questa occasione non le sembra vero di poter tornare a Milano dal suo investigatore privato preferito. quindi gli porta un caso che credo che alla Procura della Repubblica, anzi voi lo dite benissimo, a Milano ce ne sono quanti al giorno? Sono tantissimi, ma infatti la denuncia dei carabinieri che abbiamo riportato è proprio copiata fedelmente da una mia denuncia in cui mi avevano detto più o meno la stessa cosa. Caldamente invitata a non chiedere di essere avvisata in caso di archiviazione, perché tanto. Non le denunce contro i gnoti. Ma quindi Cristina, il trigger della storia è un furto che subisci tu realmente nella tua vita? No, lì era un tentativo di furto, però abbiamo copiato dalla denuncia. Riciclato, dato che insomma i furti in casa purtroppo sono all'ordine del giorno. La nostra autrice abita in Brianza esattamente come la sua protagonista, quindi immagino che abbiate anche paura a fratti. Anzi, questa volta lo diciamo esattamente, il paese di Olga, che guarda caso, visto che non c'è niente di autobiografico, autobiografico è Besana Brianza, proprio... Vedi che ho sbagliato, è Besana in Brianza, prima che i besanesi abbiano da dire. Besana in Brianza è famosissima per due ragioni, c'è una bellissima spa e una mia amica a casa, ma questo voi non potevate saperlo. Sarà amica Olga. Casa devastata. Quindi, se non è il furto la scaturigine della storia, visto che è così particolare, a chi è venuta questa balzana idea di questa trama? E allora, il primo problema che ci si presentava era come riportare Olga nell'ufficio di Franco Reali, perché Olga non avrebbe nessun motivo, cioè ho proprio una sfortuna, un altro fidanzato, un'altra cosa, ma insomma dell'investigatore privato non è che uno ne abbia bisogno tutti i giorni. e quindi, gioco forza, abbiamo pensato a che cosa avrebbe potuto portarla lì e ci è venuto in mente un furto dove i carabinieri hanno detto vabbè, non c'è niente da fare, l'amica di Ottavia sperava di poter recuperare un paio di cose che le erano care di famiglia e quindi prova, prova a dire conoscete l'investigatore privato, andiamoci. Sì, perché proprio lì la difficoltà era proprio quella, cioè perché non possiamo fare come Jessica Fletcher Ah certo, che ha qui i casi a dionardo Cove, è la città più fortunata del mondo perché succede tutto lì. Besana in Brianza non può succedere proprio di tutto, quindi serviva qualche cosa che comunque fosse plausibile ma che poi permettesse di tornare proprio su Franco Reali e sulla sua agenzia. E sul Nero che in questo romanzo acquisisce molto più spessore, molte più pagine a lui dedicate, è venuto fuori meglio rispetto a Dolce da Morire. Sì, l'avevamo detto anche quando parlavamo del primo romanzo, è il personaggio che ci ha preso di più la mano, il Nero, era nato come comprimario ma proprio una spalla e invece già in Dolce da Morire poco per volta aveva preso piede e qui invece è a tutti gli effetti uno un protagonista insieme agli altri due. E lo descrivete anche in maniera così vivace che uno se lo immagina anche fisicamente, se lo ravvisa come un wrestler probabilmente. Sì, un armadio biondo dagli occhi chiari. Insomma, li abbiamo fatti... Siccome un po' i personaggi maschili me li sono immaginati, io me li sono immaginati belli, insomma, nemmeno nella fantasia. Ah, certo. E questo punto io dico sempre, quindi non c'è nulla di autobiografico. Ah, quindi, fatemi capire, allora lei descrive i personaggi maschili e a te invece... No, però i personaggi maschili hanno detto no, sono belli, non sono come te. Sono belli, mi ha detto. Così mi ha detto, sì. E vabbè, però Olga, povera Olga, almeno circondarla di due belli uomini. Lei non l'abbiamo fatta fisicamente bellissima. Per fortuna. È una donna normale, non bella, non brutta, normalissima, un po' tondina, non giovane e quindi almeno due belli uomini. Che però conquista. Conquista e in tutta colpa di Chopin, ve lo faccio rivedere perché è una gran bella copertina, assume anche lei maggiori sfumature perché mentre indolce da morire, questa almeno era la mia sensazione, era la classica brianzola, spiccia, veloce, arriviamo al risultato, non me ne importa niente di quello che ci sta intorno. Qui invece lascia ogni tanto aperto il fianco a un po' di sentimento, a un po' di delusioni, senza nulla togliere al fatto che rimanga comunque un personaggio positivo, soprattutto nel rapporto con la madre. Quindi questa donna sta evolvendo, libro dopo libro? Sì, assolutamente. È la nostra intenzione, farla conoscere di più, perché ha tanto da dire, ha tanto da mostrare a Olga come personaggio. Poi questo libro è un libro sui rapporti familiari, è un libro pieno di mamme, e infatti noi abbiamo dedicato il libro alle mamme, la mamma di Olga è un gran personaggio, e quindi ci interessava andare un po' più a fondo, proprio nella psicologia dei personaggi. Tutti hanno delle sfumature che si rivelano poco per volta. C'è una mamma a cui siete più affezionati all'interno della storia? La Frau. La Frau, va bene. La Frau, ovviamente lei, anche perché poi a guardarla bene è una Olga con 30 anni di più, però è un personaggio che è assolutamente libero, libero di dire, di fare quello che vuole. E quindi è divertente da gestire. La scena del cimitero con il nerd è una delle perle che io probabilmente terrò lì con l'orecchia per i momenti di depressione, me la rileggerò, perché quella è veramente esilarante. Una mamma che a me è piaciuta molto, nella vostra storia, è la mamma di Chantal, la Cettina. Sì. Sì. che è una mamma che deve fare i conti con una separazione molto dolorosa, che deve prendersi cura della figlia, ed è una donna che a un certo punto si accorge che forse in qualche punto deve aver magari mal giudicato i sentimenti che provava. la sto cercando di parlare senza svelare troppo, perché a un certo punto anche lei si trova a soffrire per qualcosa per la quale forse non avrebbe mai pensato che comunque ha subito in empatia con Olga. Con Olga. E poi Olga riversa sulla piccola Chantal. Tutto l'amore che lei cerca di dare a tutti. Questo non ricevuto da piccola e quindi lo dà. No, quelle sono pagine molto anche fuori un po' dal vostro stile abituale, no? Perché voi avete la detection come core board principale e poi avete questo umorismo quasi sarcastico, quasi inglese che vi contraddistingue perché voi siete abrasivi nel vostro farci ridere. Non ci fate ridere perché o come siete teneri, giù di paglietta da mianto. Assolutamente. Sì, sì, sì. Per cui ci sono quelle paginette così un po' fuori dal schema classico. Per quanto riguarda i personaggi seriali, come diceva lui prima, evolvono e devono mostrare altri lati, sennò devono diventare tridimensionali e nessuno è solo ironia, solo sarcasmo e non ha momenti di riflessione o di dolore. Già presentando il primo avevamo detto che Olga indossava una corazza con cui affrontava la vita, corazza fatta di ironia, sarcasmo e questa irruenza che la portava a travolgere qualsiasi cosa. Nel secondo la corazza qualche crepettina comincia a mostrarla e quindi qualcosa d'altro esce. e poi nelle relazioni con gli altri personaggi a seconda del momento, della situazione, ovviamente tutta la gamma di sentimenti va esplorata. Ma vale lo stesso anche per Franco Reali perché anche lui ha dei momenti di riflessione in questo romanzo e anche lui ha il rapporto con la madre che è particolare. Il caffè, latte, che biscotti, che tenerezza. Anche quella è una pagina. Ma tra l'altro, adesso voi sapete i risultisti che noi le puntate le giriamo però possiamo dire con certezza che questa andrà in onda prima della festa della mamma di quest'anno. E quindi è un po' il nostro regalo allora. E quindi io francamente lo consiglierei come regalo per le mamme perché è davvero un omaggio a tutte le mamme, è vero? C'è anche quella di Franco che peraltro in questa storia a me sembra quasi che abbia fatto un passo indietro lui a favore di altri personaggi. Si è messo un pochino a cotè, è vero? Sì, è vero, è vero. Ma perché dopo Dolce e Moria dove per un gioco forza abbiamo dovuto presentare tutti i personaggi nella nostra idea di serialità era quello di dedicare un libro a ogni personaggio. Qui la figura principale è Olga che lo sarà sempre comunque e chi la sposta Olga? Perché non la sposta nessuna. Poi magari il prossimo se ci sarà sarà Franco. Però è una nostra idea quella appunto di cambiare il personaggio centrale in cui ruota tutta l'azione. È interessante questa vostra idea è molto interessante perché questo conserva la serialità ma al contempo può dare degli imprinting completamente diversi da un libro all'altro perché è chiaro che se per dire la prossima volta la protagonista principale diventasse la terza sorella quella che ad oggi ci ho preso? la terza sorella può darsi che può darsi che appaia come in questo appare la seconda chiamatemi Nostradamus c'è una terza sorella che è stata nominata due volte ma non è ancora apparsa e quindi è probabile che arrivi in modo che l'esercito delle Valkyrie e Cazzaniga Peroni ci sono tanti pro e contro con la serialità diciamo che non è uno spoiler qui è proprio un culo è proprio una confermiamo che non c'erano accordi no però scusate cioè la moglie del tenente Colombo viene nominata ad ogni puntata ma non l'abbiamo mai vista per anni non esisteva quindi questa terza sorella può tranquillamente però abbiamo visto la vera moglie di Peter Falke visto che ce lo fa sempre vedere nelle pubblicità ok menzione d'onore alla copertina chi? chi ve l'ha fatta? no copertina l'idea l'abbiamo data noi noi abbiamo detto che volevamo qualche cosa che identificasse bene Milano in copertina e quindi anche perché no questo è un aneddoto l'anno scorso noi quando giravamo per le librerie non ci trovavamo mai il nostro libro Dolce da morire nella sezione gialli milanesi quindi abbiamo detto no quest'anno noi vogliamo finire i gianni milanesi quindi vogliamo il Duomo in copertina e la ballerina perché comunque lo spoiler non si fa però c'entra qualche cosa con la storia con la trama gialla e poi con Milano Teatro alla Scala credo sia tuttora considerato la fuccina più alta assolutamente di Etual poi è talmente bella questa copertina scusate dategli un occhio è proprio carina io confesso che sono andata a cercarmela quella musica di Chopin ed è vero quello che voi dite tutti la conosciamo pochi la attribuiscono a Chopin avete assolutamente ragione come l'avete selezionata e non stiamo spoilerando c'è scritto tutta colpa di Chopin Beethoven era troppo lungo da mettere in copertina come nome scherzo e poi cercando quel particolare oggetto abbiamo visto che in parecchie occasioni la musica scelta era uno dei notturni di Chopin probabilmente è per quello che è così famosa perché è una musichetta che viene usata io ho chiamato mia madre e l'ho detto scusa ma il carrion mio dove è ancora lì in camera sì che cosa abbiamo Ninna Nanna di Brahms e vabbè noi eravamo fuori però comunque siamo in quell'area lì bene bravissimo poi suonava bene tutta colpa di Chopin ma è molto musicale tutta colpa di Chopin come lanci poi la boccia alla fine domanda pleonastica c'è ancora tanta rotonda della Besana ci sono ancora tanti bar e tante pasticcerie c'è un pochino di Brianza stavolta sì stavolta abbiamo per forza il furto avviene in Brianza il furto avviene lì ma ci sono anche dei quartieri un pochino più disagiati un pochino meno smaltati come quello dove vanno a bere il famoso non mi ricordo se caffè ok e poi c'è quel siparietto con Olga voi fate sopralluoghi? ma noi siamo sempre in giro per Milano poi a noi piace molto camminare a tutti e due e quindi giriamo per Milano e quando vediamo qualche cosa di interessante diciamo qui però potrebbe succedere qualche cosa e quindi giù foto foto prendiamo magari nota anche sul telefono e poi quando poi ci capita di andare a bere se il bar vale o mangiare lo inserite eh sì questa volta come ristorante abbiamo scelto due ristoranti storici milanesi non facciamo pubblicità però storici dove siamo andati più di una volta a mangiare ci sembrava bello ricordarli avete fatto bene è molto carino da parte vostra qualcosa mi dice che stiate scrivendo il terzo no 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 perché stiamo completando un'altra cosa un'altra cosa e poi abbiamo dire allora una è già finita sì e uscirà a luglio ed è un racconto lungo che uscirà in un'antologia del giallo mondatore ok e l'altra invece è un progetto che non possiamo ancora dire anche se non è un non è un non è un romanzo però è una cosa a sei mani però abbiamo idea per sì per il terzo Olga anche per il quarto volendo e per un'altra cosa diversa non Olga bene ci ha preso la mano sì sì non riesco più a fermarla dell'antologia si può dire qualcosa di più anche perché insomma siamo sempre nell'ambito è un'antologia di Cosy Crimers ok sono dodici autori quindi dodici racconti lunghi uscirà con il giallo mondatore big per l'edicole per luglio e qui ci sarà non è con Olga e Franco ma ci sarà un nuovo personaggio ah non avete portato il vostro no abbiamo deciso di non portarlo perché abbiamo questo nuovo personaggio che ci ha divertito molto beh su questo palcoscenico si sono seduti in tanti che avevano cominciato con un personaggio con una casa editrice poi hanno avuto un altro personaggio con un'altra casa editrice e quindi sono riusciti a pattinare tra due realtà diverse e tra due editori diversi beh ma raccontandoci che spesso cambia molto sì 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 è divertente per noi l'importante è divertirci cioè se dovesse diventare una cosa che uno si siede e dice uffa che barba no certo quindi non è ancora diventato un lavoro è ancora un divertimento sì è un augurio però occupa siamo vicini alla pensione occupa parecchio il nuovo lavoro parecchio tempo me lo immagino anche perché comunque si vede che è molto rifinito molto curato anche nei momenti più divertenti più leggeri si capisce che c'è un bel lavoro di rilettura di editing insomma perlomeno occhi un po' allenati se ne accorgono d'accordo ragazzi life is now e il tempo è scaduto tantissime congratulazioni a tutta colpa di Chopin a voi grazie se voleste dire se avete qualche appuntamento possono venire a vedervi e incontrarvi di persona perché non dirlo adesso tantissimi noi proprio per gli appuntamenti la cosa migliore è seguire la pagina dei pastardi proprio la pagina dei pastardi si pastoria i cardi la crasi era facile i pastardi su facebook e anche su instagram lui è il giovane della coppia sono io quello giovane quindi sono io il social comunque sì lì ci sono tutti gli appuntamenti che saranno veramente tanti perché da qui a luglio ce ne sono un balonatrentina magnifico allora dai pastardi no dalla Sorgato a presto e grazie grazie mille quanto c'è di giallo nella vostra vita e quanto c'è di noir nella vostra vita milanese scopritelo con noi ha risolto giallo